Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning, finalmente torniamo sul canale Oggi vi propongo un video non per tutti Semplicemente mi trovavo a dover cambiare la batteria a questa chiave di una Toyota EQ Che è la macchina di mia madre in quanto si è scaricata La portava sempre a farla cambiare all'assistenza Toyota Gli costava veramente tanto Quindi ho detto cavolo ci sarò un modo per cambiarla e pagare semplicemente la batteria Quindi ho comprato le batterie e ora vedremo insieme come sostituire la batteria al telecomando Intro e cominciamo subito Innanzitutto apriamo questa scatolina Queste sono le batterie di Amazon Quindi molto easy, molto veloci Come sempre essendo un prodotto Amazon Basic Dovrebbe essere anche comunque un prodotto diciamo di fascia media più o meno Questa è la nostra batteria La mettiamo da parte e apriamo il telecomandino Qui ci sarà una scritta, vediamo se riesco a farvela vedere Con scritto push Quindi basta spingere e questa chiave si toglie Questa è la chiave di sicurezza Torta questa nel retro del telecomando possiamo notare che ha un incavo, una sede Dove andrà infilata la punta della chiave Infileremo quindi la punta della chiave e faremo leva Ok, si apre veramente subito Nulla di complicato Qui abbiamo la batteria Che cambieremo, facciamo così Proprio per essere super precisi Vediamo un po' se così si toglie Ok Prendiamo quindi la nuova batteria La inseriamo Ok Fatto ciò Questo si rimette Molto semplice In questa maniera Ok Sembra essere tutto a posto Ok Abbiamo visto che Il lumino funziona Inseriamo la chiave Ecco fatto Spero che questo video sia utile a qualche possessore di Toyota Q Per questo video è tutto Seguitemi Lasciate un bel mi piace Commentate Iscrivetevi alla pagina Instagram MatchTuning Per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti